Benvenuti a tutti ragazzi, bentornati su lmg a game Siamo qua con sto cazzo di... Cazzo di? Che è? I due bellissimi golden boys di namek questi e vabbè c'è anche cooler però Non me ne frega niente di quello lì voglio voglio questi due biondi siamo d'accordo tutti e due che vogliamo questi due poi c'è lui Il carnival intanto abbiamo già capito che non li troviamo se siete persi l'ultimo video guardate quello perché abbiamo provato a cercare goku carnival Ma secondo me non esiste se lo sono inventato e iniziamo quanti c'è mai? 450 Minchia allora inizio io andiamo andiamo subito Andiamo a vedere al volo forza andiamo a fargli due carezze al volissimo Vai vamos prima multi è finito cioè sto facendo le summon con un bambino il chupa chups Ma tu non li mangi sai perché giocare al dhokan è da grandi invece abbiamo visto un vegeta attenzione o no non c'è niente qua non c'è niente perché il dhokan è una merda tu non lo sai su legends trovo tutto tutto il dhokan mi picchia vorrei sempre stato quello di che il legend è prima o poi ma porca puttana sul dhokan andiamo a mettere quel sistema che mettono su altri giochi tipo grand cross che su tot gemme spese tipo ne spendi 500 o 600 te lo danno garantito eh ma non c'è più quella cosa ragazzi ma diventi scemo almeno mille cioè diventi scemo guarda l'ho fatto rainbow oggi questo qua ve lo giuro oggi l'ho fatto rainbow mi so che ho fatto un c3 riusciremo vai iniziamo benissimo dhokan di me zio cane sei qui a faticare questi cazzo di stones rift majin buu vai c'ho quella cosa lì del vabbè rift e majin buu all'inizio mi sa che va di retro arrogo oh si con rift e coso non puoi aspettare nulla no non mi aspetto nulla si mi esce toxic dopo ti dici ma ma questo è krillin super seian giallo fortissimo ma questo è krillin super seian giallo senza capelli mamma mia ce l'avevi? con le sopracciglia gialle sai nella seconda è all'ombra nella prima è sotto il sole vamo ragazzi seconda multi spacco tutto veramente i preferiti già negli ultimi video come detto se vi siete persi andate a vederli ma già negli ultimi video due video e non ho e non abbiamo trovato sto Goku maledetto carnival cioè è l'ora di trovare qualcuno sennò disinstallo e faccio un nuovo account perchè vedendo da legends ho ben capito che gli account o sono buggati o non banno un po' si si ma il mio è buggato non va più niente no il mio account del legends è buggato perchè trovo tutto cos'è? puttana mamma mia ma pensa poi chi spende i soldi e non trova si vabbè ai tempi anch'io io non so magari 500 franchi li ho spesi anch'io si anche 2000 io ragazzi da quando gioco a sto gioco almeno 2000 per voi euro li ho spesi sicuro da noi ci sono i fiorini perchè siamo a Firenze a Firenze c'è il suo editore che è alla cassa e la c'è i fiorini WTF? io questo non ce l'ho questo qui è nel banner aspetta che guardo è nel banner sono nuovi si 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 l'ho visto anch'io prima penso che il secondo sono nuovi questi qua ma si hai già trovato un nome? si è il jaded anche che schifo madonna rado da vecchio oh cazzo è fatti sapere ragazzi ho sempre paura che esca scritta LR fatti sapere se voi avete trovato sti gotti season 10 in meno ma questo è il primo ha creato lui il docker esatto è il primo personaggio del del docker di tutto che schifo mamma mia che schifo mamma mia che schifo comunque questo allora ragazzi io non ce l'ho ma mi sembra che c'è una free ogni 3 si si almeno questo terza multi signori quindi riusciamo a farne 12 madonna ma cos'è cos'era? chi era? Yuno e Yanko ma neanche si son mai parlati ne presentati chi sei? Yanko neanche sa che esistono i Nameciani allora loro cosa mi sta già sul cazzo quello io non ce l'ho mi sa Shugesh no non ce l'ho Shugesh Shugus mamma mia raga e così come niente fosse 200 gemme 150 vanno al vento proprio così e qua cioè prima avevo Riff e Majin Buu adesso c'ho Tensing e Majin Buu ma che cosa a me non c'è? così anche prima ho trovato già cosa no non ho trovato nessuno i Belli i Belli Coder nella seconda ho trovato i Belli che cos'è? di Bugs Bunny? di Space Jam tutti tutti in questo mondo ma che schifo ce l'ho ce l'ho cosa hai morso? un dente mi son morso la gola cos'è? che cazzo è quello di Johnny? che schifo e beh però un LR per il tema attenzione siamo indietro siamo indietro un LR oh goazzo questo diventa con cioè in due ne? mi sembra allora raga questa è l'ultimo ah no aspetta poi faccio un reset se no ah no questo ce l'ho cazzo ce l'ho e non non è devo crederci devo solo crederci devo solo crederci io ci credo Mario adesso arriva ma per me o per te? minchia oh oh dammelo give it to me yeah blu no buono eh ma forse perché sei biondo te può essere infatti volevo andare dal parrucchiere qua sotto ma non lo ora mai dopo le 5 e mezza chiude lui per farmi blu ahio cosa arriva dai dai qualcuno del del banner per forza almeno si madonna tutta i soldati di freezer qui insieme ah questo è vegetto str ci sta ah quello super saiyan di majin boon di majin boon questo quel cazzo è saga da me che mi sa si ok questa questa qui era la free eh si buona summon un bel lr che ci stava tra l'altro quella super mossa di quel vegetto è una delle più belle del gioco puttana veramente oh è vero ce l'ho anch'io vegetta wis beh vuoi anche la vicina c'è vuoi anche qualcun altro aspetta che te la chiamo che vola anche lei verso il sole lì che cazzo è poi che mette ora uuuuuh 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 mio dio mi caro tutto.. tutto il caso di Dragon ok cica vediamo raga vediamo vediamo uuuuh waa co ma è di la ah è un altro questo qui ok è un altro uuuuuh uuuuh uuuuh che spavento io mi ricordo qua nel secondo anno questo è il mio personaggio preferito. Questo qua? Sì. Proprio del Dokkan? Ah ma va? Adesso fa cagare non lo uso neanche hanno meno 16 vabbè però questo qui è buono eh. Oh raga visto che abbiamo trovato l'LR niente reset andiamo avanti devo solo crederci vedi devo farle convinto perché i personaggi hanno un cuore hanno... hanno anche un culo però doveva farlo no il cuore. Sì effettivamente. Adesso li troviamo. Non è tutti torti. Dopo che ho visto le animazioni non posso non averli non possiamo non averli oh Goku da solo ma tu ce l'hai in giapponese che dice I RU AIDA I RU AIDA. Buon questa o c'è il fake out screen crack ma neanche a pagare. No che crisi raga ma il Dokkan è oh oh dai banner bene sei in vantaggio va bene va bene come sei? eh sì tu hai trovato anche tu un LR freezer sì no tu ne hai trovati due di LR mi sembra no solo uno solo uno? va bene va bene non ce ne avevo personaggio nuovo muviros category più due più 100 andiamo qua a vedere abbiamo un 130 muviros va bene carini bello nuovo personaggio va bene cos'è successo lì? chi è uscito? c'era Krillie e C18 oddio santo teniamoci forte però C18 fa copie con Krillie ma anche con C17 C17 ah e beh sì effettivamente lo fanno lo fanno arcobaleno questo qua è l'arcobaleno di oggi no? meglio che niente però puttana vogliamo qualcos'altro secondo me non sbagliamo a farlo proprio subito perché magari il ratio è bassissimo tutti lo fanno e lo regalano a boh non so a chi eh ma quando le facciamo lo regalano no no certo hai ragione eh però oh questa cosa qui non so vediamo se anche questo video va male però oh male per te l'altro l'altro ho trovato 7 LR sì no è vero cozi sono trovati andiamo ancora vai dai 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 vedi devo crederci solo un po' di più YAMCO perché YAMCO perché ti vuole bene comunque vuoi fare già la seconda gratis insieme o l'ultima gratis insieme ah è vero quindi facciamo una insieme no facciamo la già la seconda è vero è vero c'è un video lungo 7 ore oh niente male questo è figo questo è quello con freezer con freezer sì ho trovato la scorsa volta che ce l'ho già no non ce l'avevo questo ottimo questo è maestro e discepolo sì ma aspetta che voglio vedere c17 junior ah vanno coppia sì vanno insieme al bar non lo sapevi al lounge adesso io proverei a fare un reset dopo questo se va male anche questo cioè tipo chiudi l'applicazione sì chiudiamo riapriamo perché zio caro c'è l'altra volta pioggia di LR fa vedere quanti LR ci sono in sto banner perché 4 e forse per quel o forse perché i buoni non si vogliono far prendere Goku nudo ciao dai chiudiamo l'applicazione ah tra l'altro fra poco il compleanno del Teo perciò bisogna fra 10 giorni bisogna dargli bisogna fargli trovare sti Goku e Vegeta sì dai Bandai fate i bravi a chi toccava adesso toccava a me abbiamo fatto un piccolo reset per scacciare via la sfiga adesso però dobbiamo dobbiamo esistere ma forse quegli LR non è perché fai il banner carnevale e rabatami no no adesso li troviamo li annusi adesso li troviamo e lo sento li trovo non so non posso parlare per te ma io li trovo tocca a me cosa fai? ti cazzo 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 he's gone no Trunks fa copia con Trunks cosa urla scemo Trunks solo con Mai perché però hai ragione perché nel banner c'è anche Mai cioè scusa nel lui la porta in braccio ti salverò è come Majin Bu e oddio ma basta va bene ma va bene però mi serve lui cioè ogni LR che trovi è una chance persa di trovare loro mi servono però va bene cioè non ci lamentiamo ma invece ci lamentiamo perché il Dockan è un bastardo di merda vai te lo devo facciare la free insieme porca troia vuol dire qualcosa può tornare indietro il tempo ah ok la camera con lui o con Bills può farlo adesso però o adesso mai più e se ti fa quell'animation trovi loro per forza oh Broly è sempre bello sempre bello mamma mia ragazzi ma anche voi avete così sfiga sul Dockan che schifo fateci sapere perché io personalmente pure su Grand Cross sono un po' più culo di così ma ultimamente perché prima trovavo è vero che sul Dockan c'è sta cosa che l'ultimo personaggio è sempre un SSR però 3 2 1 via vai ragazzi se avete le stompate la multi con noi facciamo la Genki Dama Multi Dama Goten Piccolo San C18 e C17 tiriamo insieme 3 2 1 via fate sapere chi trovate testa multi mi raccomando e se avete trovato Goku e Vegeta vi banno non lo scrivete non ti ricordo che ci uscivano uguali comunque va che C17 C18 in teoria vuol dire ho capito ma ce n'erano altri lì oh dio bello questo questo dovrei avercelo non sono sicuro questo anniversario 5 si mi sa di si comunque nei commenti dicevano che è scarso adesso ma va no dai vai insieme insieme tac vabbè Namek ma sto zarbon ma che quindi quell'animazione lì tua mi sa che era Goku dici eh che schifo ma che schifo ma cosa me ne frega del Dragon Ball Fusion a me però questo guan qua non è male mi pare che figo ok niente andiamo avanti a chi toccava ma aspetta un attimo ma io non ce l'ho mi sa questo non ce l'ho ah si che ce l'ho si non lo neanche non diciamolo agli altri e dicono ma questo gioca con eh no andiamo raga di nuovo e ultime 4 per me anche per me no Krilin Goku mamma mia sto gioco mi sta mettendo alla prova nel senso puoi spaccare il telefono no per disinstallarlo per la vita dopo che hanno guadagnato bene su di te però non posso sono a livello 500 cioè sarei mega stupido almeno il login giornaliero così devo continuare a farlo non l'hai mai lasciato il login giornaliero a che numero sei alcuni periodi si ah quindi l'hai perso tipo le consecutive però sono oddio devo guardare sailor moon cristallo di c'è questo riff qua in mezzo alle palle o profile oddio screencrack un altro no beh sarebbe stato troppo bello hidden potential eh cos'è quella roba lì che non ho capito questo gocchino qua eh cos'è ah non lo sapevi sai che mi dimenticavo sempre di chi ancora sto freezer non so cos'è no mari doppioni anche io mica male un altro lr per il teo va bene però non va bene va bene ma non va bene si ma che cazzo che cazzo si vede quanti che cazzo è sto qua trunks ma che schifo che schifo andiamo andiamo tocca a me cos'è sto cazzo di vabbè si ok si 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 andiamo raga non ci resta che che piangere piangere veramente ma che cazzo cos'è ma davvero il puttano sai ti fai la fatica giochi ma si oh ho fatto tre giorni così con le vene negli occhi dai su puttano è già bello che non ti lancio si 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 mamma mia ah mi prende pure per il culo mi prende pure per il culo si è che è quello lì di neonamec no si il troll triumphant light ma succhiamelo vediamo il teo signori puttano ti giuro veramente così poteva essere pensavo pensavo fosse lui poi è restito quasi da riff da kirichetto che palle che palle che palle raga questo video ma il dokkan deve darti delle cose qualcosa non ti dà un cazzo no ma te lo deve dare se vuole ancora guadagnare qualcosa su di noi così lo disinstalli dici ok che magari dicono va bene quello che hai messo è abbastanza ne abbiamo altri ma potrebbe essere lo stesso andare avanti a pagare a uccidere non ho capito un cazzo il quale hai detto però sono d'accordo è pazzesco è che nel senso se io lo disinstallo non ricevono più soldi nel caso dovessi comprare Gen chiaro quindi dammi qualcosa eh oh che cazzo sono più qua mai visti in vita mia ma di che banner sono dottor cielo fan si si vamos raga vamos ti giuro ne farei una solo per ridere qua però no 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 avresti quella gra... ah si ma tu si avresti vai falla dai facciamola no falla tu ti giuro ti giuro se esce questo scemo qui non farò mai più summon sui buoni in tutta la mia vita tutto il mondo è venuto a volare su travesse di CLR su dieci personaggi ti giuro io vado sempre per i buoni ma magari non è la strada vai weis porta indietro sta roba vediamo però 4 pg a volte vuol dire qualcosa è fino a 5 no a 4 a 4 5 se c'è Trunks che porta mai o Majin Bu con in spalla normalmente dovrebbe arrivare da solo suo nonno mamma mia wow wow no non ha senso torna su va wow che bello vai vai parla e si ah si perché poi fai tu ok andiamo ragazzi sulle mani puttano puttano che chi lo ha che cazzo si dice dai oh 500 cioè va bene c'è gente che spende più gemme però ma poi ma perché sono anche belli no e allora ti costano o c'è un contatore di gemme devi spenderne tot per ebbè fatelo fatelo no fatelo sesso che fa o poi sia Krilin che Vegeta niente Vegeta quando vola con Goku gli fa così pensi che ci fondiamo ma invece no eccolo paradiso comunque il titolo del video mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia titolo del video io sono basilisco cioè sono basito sono bastianic vai Teo almeno tu e poi mi impicco veramente Wiz è l'ora Wiz ti giuro l'altra volta c'è né Wiz né Vegeta l'altra volta con la K mi è uscito Zeno adesso mi sembrano mega momenti Zeno ti giuro Zeno Animation mi sembra momenti lontani felici vabbè Goku si è black Majin Buu questo è fortissimo Majin Buu steroidi come questa è fortissima dai ma oh raga ma che shaft due perché questo non basta alleluia e mette in bocca al lupo per in bocca al lupo per questa multi che cazzo vuoi fare speriamo cioè pronto Teo si 3 2 1 vai ti giuro adesso ti mi fico cosa che è ucciso cos'era ma che fu con il mister satan ti giuro ti tiro qua eh no no ho visto ciccione proprio sullo schermo poi ho girato qua giù così no mi sono contorso 3 2 1 vai ma ma allora non vuol dire un cazzo ma avevi solo lui oh screen crack 1 screen crack 2 c'è anche il terzo no no 2 2 vuol dire LR vai insieme arcobaleno arcobaleno ma sono loro non lo so si sono loro zio chi vuoi che sono questi puttanaggi va bene va bene va bene dio del dokkan io gioco 5 anni della mia vita a sto gioco a sto gioco di merda complimenti però sono contento per lei grazie tana lo faccio lo faccio cosa fai lo evolvo se il colmo me ne esce un altro quella è schippata ma che brutto oddio quindi majinboo e mister satan vuol dire garantito fatti sapere io non so non mi ricordo queste cose del dokkan santo dio io non ho parole ah mi prendono anche in giro il tuo prefe oh che bello non ce l'ho io quello lr questo no oh no però questo non ce l'avevo neanche io teo c'è il fiatone si si ho fatto un mortale in avanti questo è bello sto majinboo vaffanculo devo essere felice per majinboo maledizione cosa devo fare per avere un personaggio di sto gioco di merda cosa devo fare adesso shop sei serio ma va morale boost cos'è oh si trasformano diventano dei figli di puttana diventano nudi si ma che ma sono nudi veramente guarda si se siamo spaccati bello 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 figata quindi è la leader skill cos'è adesso schia puoi schiacciare sopra tenendo joint force c'è e movie hero voi date un pc così a uno che non sa che leggerla è leader skill joint 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 e movie hero va bene mi calma joint si dice joint forces eh si faccio la pazzia la singola la singola faccio la matta eh adesso adesso veniamo tutti no dai non è vero ma zio ma che cazzo ma allora la facevo prima se lo sapevo se l'avessi saputo l'avessi saputo no non state scherzando cioè non è che lo porto arcobaleno platino cioè diventa color spazio sto personaggio adesso cos'è quanti ne ho trovati tre questo è il terzo tre quanti cazzo te ne manca uno come a me me ne mancava uno mi sa che ne avevo già due ah o cocane bastardo di uno però almeno uno dei due l'ha trovato finalmente possiamo mettere un video con un cazzo di personaggio del band io lo chiamerei mamma mia lo stesso complimenti però quello tanta roba ma si cosa ma si no si tanta roba era muttana sai io ho tenuto 500 gem per trovare lui dieci volte no in realtà avrei spaccato tutto perché ho shoppato in realtà ma quanto ho shoppato 44 franchi perché ne avevo 350 cioè no ne avevo no quanti ne avevo ne avevo 300 e faccio cosa tiro fuori tiro fuori niente però il dokkan ha capito che io ho pagato e allora però va bene 50 franchi questo va bene va bene 50 franchi sì vabbè sono contento anche io anche se è un po' rosico ragazzuoli questo video finisce qua perché sennò facciamo tardi madonna 36 minuti l'ultima la prima il teo può gioire io posso incazzarmi sono povero e non ho niente in mano barbo Yongtao ragazzi ci vediamo al prossimo video lasciate un bel like iscrivetevi e andate a vedere gli altri video di Samo se non l'avete fatto non ci sarà il video per cooler va bene vediamo perché è stro no col cazzo questo devo pagare ancora comunque sì il teo ha ragione dokkan siete dei bastardi in passato mi avete fatto gioire ma adesso sono incazzato niente due video così il teo del prossimo deve andare bene ciao ragazzi un saluto ciao ciao